Musica L'ultimo arrivato in casa a Spezia, innanzitutto un benvenuto. Grazie mille, molto contento di essere qua, con tutti gli ragazzi. Quindi sono contento, prima di questa nuova esperienza e speriamo che quest'anno sia un anno importante per tutti. Ecco, il mister Stroppa punta molto sulle qualità tecniche importanti, i tuoi identi. Sì, sì, quest'ultimo anno ho giocato più a tre, sinceramente mi piace giocare più a quattro. E poi se no, anche il mister è stato interessante per il mio arrivo, quindi come ho detto sono molto contento e non vedo l'ora di entrare in campo. Ecco, ritrovi i due vecchi compagni come Ceccarelli e Ferrari, sicuramente ti aiuteranno ad essere estrati nel gruppo, però non credo che ci siano problemi. Sì, 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 sempre è bello arrivare e trovare qualcuno già che aveva giocato con uno o qualche ex compagno. Quindi è importante, però comunque i ragazzi mi hanno colto bene e speriamo che quest'anno possiamo fare bene. Il tuo stato di forma? No, non ho bene, ho fatto l'operazione, ho fatto anche io la montagna, ho corso anche io, quindi sono davvero più bello come ragazzi. Grazie a tutti.